E' di almeno 40 morti e 80 feriti il bilancio del raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli. Secondo il governo, appoggiato da Stati Uniti e ONU, il raid sarebbe stato ad opera dell'esercito nazionale libico, guidato dal generale Khalifa Ftar. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero, ha commentato la vicenda in una nota. Un'ulteriore tragedia che mostra l'atroce impatto della guerra sulla popolazione civile. E aggiunge, occorre trasferire i migranti che si trovano nelle strutture di raccolta in luoghi al sicuro dai combattimenti e sotto la tutela delle Nazioni Unite. La Polizia ha eseguito cinque arresti nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. Gli indagati sarebbero collegati con appartenenti alla Camorra e tra le accuse ci sono corruzione nell'esercizio della funzione, traffico di influenze illecite e favoreggiamento personale. Tra le persone arrestate c'è anche un giudice del Tribunale di Napoli, per cui sarebbero emersi nel corso delle indagini collegamenti con la Camorra. Gli agenti della squadra mobile di Roma stanno anche eseguendo diverse perquisizioni a carico degli indagati. Caro la racchete è libera. Alla comandante della nave ONG Sea-Watch non è stato infatti convalidato l'arresto da parte del GIP di Agrigento. Il prefetto della città siciliana, Dario Caputo, ha invece firmato il provvedimento di allontanamento dall'Italia nei confronti della donna. La decisione è stata presa dopo aver approfondito i profili amministrativi della vicenda. Duro il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Mi vergogno di chi permette che in questo paese arrivi il primo delinquente dall'estero e nel nome delle sue idee politiche disubbidisca le leggi e metta a rischio la vita di alcuni militari italiani che stanno facendo il loro lavoro. Non è la giustizia che serve a un paese che vuole crescere. Non è la giustizia che sogno di lasciare in eredità i miei figli. Quanto è urgente la riforma della giustizia? Quanto è urgente cambiare i criteri di assunzione, di selezione, di formazione, di promozione di chi amministra la giustizia in Italia? Ci stiamo lavorando. 124.000 persone in meno tra il 2017 e il 2018, quarto anno consecutivo di trend negativo. Dal 2015 sono oltre 400.000 i residenti persi, un ammontare superiore agli abitanti di Bologna. Questi dati, relative alla popolazione residente in Italia, pubblicati dall'Istat, che precisa Le nascite nel 2018 sono diminuite di oltre 18.000 unità rispetto al 2017. È il minimo storico dai tempi dell'unità d'Italia. Diminuiscono anche gli immigrati stranieri. Nel 2018 le iscrizioni in anagrafe di cittadini provenienti dall'estero sono state 332.324, oltre 11.000 in meno rispetto al 2017. Nel 2018 le iscrizioni in Italia.